Ispettore, ma cos'è successo qualche pomeriggio fa? Ma è successo che mi sono trovato nel bel mezzo di un... Diciamo, si era appena consumato un reato e quindi mi sono trovato ad intervenire nelle immediatezze dei fatti. Sono stato fermato da dei turisti che mi riferivano che c'era una persona con un fucile in mano che era entrato all'interno di un ristorante e a quel punto sono intervenuto chiedendo anche l'ausilio dei carabinieri perché così mi avevano detto i turisti, mi avevano detto che avevano già chiamato i carabinieri e quindi per dare, diciamo, per confermare quanto loro avevano detto ho fatto la stessa cosa nel senso ho preso il mio telefonino e ho chiamato anch'io i carabinieri affinché mandassero anche loro, insomma, degli uomini in mio supporto perché non sapevo che cosa stava succedendo e quindi niente, mi sono diretto verso la zona. Non ci ha pensato due volte, nonostante la presenza, si è trovato di fronte ad un uomo armato con un fucile ma lei è comunque intervenuto e ha dovuto mettere mano alla fondina. Esatto, perché non puoi sapere a che cosa stai andando incontro quindi devi comunque farti trovare preparato non sapevo che cosa era successo o che cosa stava succedendo e quindi non potevo arrivare così totalmente impreparato. Di fatto, Ispettore, ha sventato un tentato omicidio? Io sono arrivato che già tutto era finito quindi non l'ho sventato io in realtà io non ho neanche visto la lite fra le persone vero è che ho recuperato il fucile che poi ho subito consegnato ai carabinieri che sono arrivati sul posto. C'era anche un coltello poco distante? Sì, c'era un coltello a terra. Ha avuto anche complimenti dei carabinieri? Sì, sì, si sono complimentati con me in caserma per la prontezza, insomma, per lo spirito di iniziativa e forse anche per un po' di coraggio. Certo, insomma, puntare una pistola quando si ha contro quasi puntato un fucile o comunque si ha un uomo armato ci vuole un controllo e una lucidità e un coraggio non indifferente. Lei gioca un po' a fare il modesto ma io so anche che è stato talmente lucido da tenere il telefono acceso durante tutte le fasi con la chiamata in corso durante tutte le fasi dell'intervento. Diciamo che è vero in parte nel senso che il telefono era aperto ma io nella foga di andare subito a catapultarmi dove stavano succedendo i fatti non ho pigiato bene probabilmente il tasto forse non l'ho neanche pigiato per chiudere la telefonata con i carabinieri e quindi... Quanto sta che hanno seguito il suo intervento praticamente in diretta? Mi risulta così. Adesso allora possiamo dire che i vigili urbani non sono soltanto quelli delle multe? Sì, questa è la cosa che mi preme maggiormente però alla fine che la cittadinanza deve sapere che quando c'è una persona indivisa noi siamo comunque degli amici del cittadino e non sicuramente dei nemici quindi siamo delle persone su cui poter contare.